hai mai sentito della famosa tecnica del panino del sandwich o del panino di non si può dire quella parola per dare feedback e l'importanza di dare feedback in questo video vedremo perché quella tecnica potrebbe non funzionare e vedremo anche come rimediare cioè come dare nel modo migliore possibile il feedback ciao a tutti da gennaro romagnoli psicologo psicoterapeuta mi occupo di anni proprio anche di queste faccende tutte le volte che vado in azienda questa è una delle tematiche più importanti anche perché la storia del feedback è davvero una delle cose più importanti non solo in azienda ma nella vita di tutti i giorni imparare a chiedere feedback è fondamentale e non sto a menartela con il raccontarti di quanto sia fondamentale il feedback all'interno della teoria della comunicazione cioè proprio nel momento in cui i miei colleghi hanno iniziato a inserire il feedback nella comunicazione hanno dato avvio a tutti gli studi sulla comunicazione efficace moderni che cosa significa dare feedback ecco in modo semplice dare feedback significa dare un'opinione dare un parere su qualcosa che è accaduto ed è ovvio che questa faccenda è molto più rilevante di quanto immaginiamo dato che all'interno di un contesto relazionale la nostra comunicazione non dipende da quanto noi siamo stati bravi a formulare le nostre parole ma dipende da quanto queste parole sono arrivate all'altra persona sei d'accordo e come faccio a sapere se le altre parole sono arrivate all'altra persona lo posso sapere solo in un modo attraverso il feedback per vedere se ciò che gli ho chiesto verrà attualizzato verrà fatto potresti chiudere la porta se la persona chiude la finestra vuol dire che cioè non conta io quanto sia stato bravo a dire potresti per cortesia chiudere quella porta se lui chiude la finestra qualcosa non va ok l'unico modo per capirlo è guardare che cosa succede cioè osservare il feedback e tutta la comunicazione efficace tutti i comunicatori più bravi hanno questa capacità di osservare il feedback ed adeguarsi ad esso e questa è l'abilità della comunicazione ma dov'è che invece si parla di panino del feedback si parla in azienda dove si sa da tanto tempo che il feedback è la cosa più difficile da dare da deliberare come dicono gli anglofoni perché beh ne abbiamo un sacco di prove e abbiamo anche parlato tempo fa in una puntata che si chiama mam effect all'interno della quale abbiamo visto che piuttosto che dare feedback negativi alle altre persone la gente fa l'omertosa non racconta le cose perché è estremamente doloroso dire ad un'altra persona qualcosa di negativo quindi dirti no genna il tuo libro non mi sta piacendo mi piaceva più il primo è doloroso e non è doloroso solo per te dirmi che il mio nuovo libro non ti piace è doloroso anche per me sentirmi dire che il mio nuovo libro non ti piace ma se tu sei una persona rilevante per me è importantissimo che io sia disposto a ascoltare il tuo feedback e che tu sia disposto a darmi il tuo feedback capisci perché altrimenti siamo un cieco e un sordo che non si parlano e non si capiscono viceversa se invece io mi apro la possibilità di sapere ok ragazzi oggi in questo mese ho fatto bene il mio lavoro di manager di caposquadra sì o no sì no questa risposta non va bene devo chiedere in modo preciso ok dunque il feedback è difficile da richiedere da dare da formulare e non è un caso che i miei colleghi i comunicatori i manager i trainer aziendali si siano concentrati su varie modalità per darlo questo benedetto feedback è una delle più famose si chiama il famoso panino di a volte lo chiamano così io la prima volta che l'ho sentito è stato da parte di robert dils e poi dal mio amico zio hack che hanno fatto la sua versione italiana divertente nel forse 2001 o 2002 in pratica consiste in questa faccenda qua consiste nella capacità di dare tre fette di feedback ammettiamo che io ti voglia dire che il tuo libro non mi piace dato che siamo in odore di editoria mettiamola così a proposito il libro cui faccio riferimento è questo ecco ammettiamo che questo libro non ti piaccia o almeno a me non piaccia io non sono non sono l'autore del libro e voglio dirtelo ecco la prima cosa che potrei dirti è così guarda genna la copertina è davvero bella cioè io davvero apprezzo la copertina secondo me hanno fatto davvero un ottimo lavoro anche l'impaginazione è splendida è anche ho apprezzato i capitoli scritti piccoli però però la prosa non mi piace la prosa è un po arzigogolata non si capisce non ci sono le note a pie pagina manca la biografia e ho apprezzato davvero molto gli esercizi che ci sono all'interno cioè il fatto che ogni pezzo abbia un esercizio quindi bravo complimenti che cosa ho appena fatto sono partito prima con un complimento che bella la copertina l'impaginazione ci ho messo in mezzo la fetta di cacca dicendoti che schifo è fatto male non ci sono le note a proposito se non ci sono le note perché non c'è la bibliografia e tecnicamente quando non c'è una bibliografia non si possono mettere le note sappiatelo ecco me l'ha detto mia moglie che si occupa di queste cose prendetevela con lei ora a parte questa battuta la terza fetta infine è un'altra fetta addolcente c'è un'altra fetta dove ti dico però tutto sommato quindi prima un complimento concreto sincero poi una fetta di schifezza il feedback vero e proprio quello che facciamo fatica a digerire tutte e due sia io che te tu nel darmelo io nel riceverlo ok e poi un'altra fetta addolcente e se questa tecnica non funzionasse così bene cioè non fraintendermi questa tecnica funziona molto bene perché come hai visto consente a entrambi di tenere basse le difese cioè tu non dovrai necessariamente partire da una cosa negativa e quindi non dovrai subito metterti lì sull'attacco e sulla minaccia viceversa io che lo ricevo posso tranquillamente prima dire ah dai ti piace il mio libro anche se non ti piace la prosa però poi alla fine ti piace ebbene alcune ricerche attuali ci dicono che forse bastano le prime due fette cioè basta prima la fetta positiva e poi la fetta negativa perché la terza fetta positiva potrebbe inficiare il feedback in sé in altre parole se ci metto troppa positività il fatto di nascondere diciamo così il feedback all'interno di questo panino tra le pagine di questo libro può far sì che il feedback stesso abbia meno effetto certo se voglio dire ad un amico che gli mi piace il suo libro raccontando di questa cosa posso usare la tecnica del panino ma se voglio dirlo a un mio collega e desidero che migliori la prosa all'interno del libro sarebbe bene dire guarda il libro e la copertina è bellissima la struttura è fatta molto bene ma io fossi in te migliorerei la prosa la prosa perché un po' rzigogolata ecco quindi secondo me tu puoi farcela in che modo miglioreresti la prosa come vedi non è completamente negativo a ciò che sto dicendo cioè do la prima fetta quella positiva per abbassare le difese della persona poi do quella negativa il feedback vero e proprio e poi do ispirazione e consigli pratici nota che non parlo mai di personalità in altre parole non dico sei un bravissimo scrittore ma dico qui hai scritto in questo modo quindi scendendo il comportamento dall'identità che uno degli errori più gravi che facciamo dando i feedback se hai un incapace è diverso da dire non sei capace a fare quella cosa lì lo sappiamo tutti ma in pochi utilizziamo questo tipo di linguaggio dunque dunque quando noi vogliamo che l'altra persona modifichi il proprio atteggiamento non dobbiamo mettere una terza fetta positiva un altro feedback ma dobbiamo aiutare la persona a sviluppare il feedback vero e proprio dandogli un'ispirazione dandogli dei consigli per ciò che potrebbe migliorare senza ergerci tra virgolette ai grandi saggi a meno che non siamo davvero grande saggio per quella per se tu sei il capo redattore di una ci siamo capiti ok quindi dobbiamo imparare a dare feedback sinceri e a tollerare quel disagio nel dare e nel ricevere feedback anche perché è così importante che ti invito ad ascoltare anche la puntata dedicata al mam effect chiederò la mitica lì c'è magari di metterlo qua da qualche parte se non l'ha già messo da qualche parte di modo che tu possa capire anche come mai succede una roba del genere bene detto questo vorrei che tu mi dessi il tuo miglior feedback qua sotto e magari puoi darmelo esattamente come ti ho appena descritto quindi un commento positivo il vero feedback che può essere positivo negativo o neutro e poi dentro una parte motivazionale cioè per dire alla persona ok quella cosa non mi piace io io avrei fatto così io farei cosa ecco ti ispiro a migliorare alla fine ma non ti tra virgolette distraggo con un'altra cosa positiva resto in quel contesto perché solo in questo modo qua tu poi alzerai il fondo schiena e inizierai a fare le cose bene detta questa faccenda qua dovete sapere che in tutte le aziende avrete sentito parlare di feedback nei prossimi 5-10 anni sentiremo nuovamente parlare proprio di questa tecnica ognuno gli darà il suo nome il suo termine e non vedo l'ora che tu possa tornare qui e dire beh genna l'avevi detto dieci anni fa capita capita aspetto il tuo feedback se non l'hai ancora fatto iscriviti a questo canale e noi ci vediamo al prossimo video ciao lo sapevi che la meditazione può portare nella tua vita una serie lunghissima di benefici scientificamente dimostrati beh ora lo sai e se vuoi praticarle in modo semplice e costante ho creato un'app gratuita per te puoi trovarla sull'apple store o sul google play store oppure cliccando sul link in descrizione abbiamo bene ecco